Lo circo quanto ti costa? Due appartamenti e due cinquanta. E poi i soliti spicci che noi diamo agli affamati. Io vi posso anche finanziare, ma voi aiutatemi a chiudere questa cazzo di variante che serve a costruire al Torrino. Non ti preoccupare, ma è tutto a posto. Fermi, polizia! Mi chiamo Tommaso Mariotti, sono andato a Roma 38 anni fa. Faccio l'imprenditore e in questo momento mi trovo agli arresti domiciliari. È la teoria del mondo di mezzo, compà. Ci stanno, come si dice, i vivi sopra e i morti sotto. E lui stava in mezzo. Io perdo la vendita delle immobili alla cea. E questo affare ci guadagno anch'io. Se salto io, saltate tutti. Ho saputo che sta per pubblicare una lista di persone che hanno trasferito i propri soldi in Svizzera. Monsignor, abbiamo una certa urgenza perché sono già a partire richieste per la rogatoria. La crisi non fa sconti a nessuno. E la chiesa non si governa con l'Ave Maria. Ti stanno preparando i bagagli con tutte le tue cose dentro. Oggi ti vai a persa a questi. Perché ti muo sta sempre dentro di 3500 se non scatta l'antiriciclaggio. Sai quanto ci frutta? S'emergenza abitativa. Più del traffico di droga. L'inchiesta Mafia Capitale ha fatto scattare le manette a... Il mondo di mezzo. Un film di Massimo Scaglione. Da maggio al cinema. Di